Il Consiglio regionale e le commissioni riprendono a settembre le loro attività dopo la pausa estiva. Lunedì 10 si svolge una seduta comune tra Consiglio regionale e Consiglio delle autonomie locali per discutere della riorganizzazione delle province. Lo ha deciso il 2 agosto la conferenza dei capigruppo insieme all'ufficio di presidenza del CAL. Sedute dal 27 luglio al 2 agosto. Il Consiglio regionale ha proseguito la discussione sul testo che modifica la legge urbanistica arrivando all'articolo 2. L'esame del provvedimento riprenderà a settembre. Il 27 luglio l'Assemblea ha approvato la delibera per il dimensionamento delle autonomie scolastiche 2012-2013 e per l'anno successivo l'atto di indirizzo per le province, il regolamento sui servizi funebri e cimiteriali e un ordine del giorno a tutela dell'occupazione dei dipendenti Oshan. Ordini del giorno approvati. Il 2 agosto l'Assemblea regionale ha approvato un documento sulla disciplina della responsabilità amministrativa per garantire la correttezza di comportamenti e procedure di enti e società. Il Consiglio regionale ha poi iniziato l'esame degli ordini del giorno sulla famiglia, a cui è seguito un ampio dibattito con interventi da parte di tutti i gruppi consigliari. Tavolo di concertazione. Ridurre i costi della politica attraverso la stesura di una nuova legge elettorale e le modifiche allo Statuto della Regione. Questo è lo scopo del tavolo di concertazione che si è riunito per la prima volta il 31 luglio a Palazzo Lascaris. Da settembre verranno convocate sedute tematiche per formulare le proposte alla Commissione Affari Istituzionali entro il 31 ottobre. Attività delle commissioni. La seconda commissione in sede legislativa ha prorogato di quattro mesi il termine della moratoria sui grandi centri commerciali, dal 27 luglio al 27 novembre. La Commissione Bilancio ha approvato il disegno di legge sui piccoli comuni e sulla gestione associata. Il provvedimento passerà l'esame dell'Aula nelle prime sedute di settembre.